Allora, io lo so che avevo detto ci vediamo dopo per la seconda puntata, per la puntata 18, ma è passato un giorno. Sono passate 24 ore, se non di più, e io mi sono tagliata i capelli e ho fatto altro nella mia vita perché non potevo vederle insieme. Io ero troppo sconvolta, quindi ho detto, beh, ok, passeranno 24 ore e poi vedrò l'altra. E scusate, l'abbigliamento da casa non trucco e faccia orribile. Tanto mi sconvolge, poi metto a piangere, che cacchio mi tocco a fare? Quindi, no, eh? No, vabbè, comunque sì, sono stata in casa, sono stata a studiare e quindi adesso, eh, adesso non lo so che cosa farò. Quindi, rip, me. Oddio, spero, io dovrei prepararmi i tazzoletti, oddio, ho paura. Go. Già inizia in maniera ansiogena. E' orribile sto gigante col becco. Madonna, madonna. Gesù, che sofferenza. E' orribile sto gigante. Gesù, che sofferenza. Enza, scusate, sì. E' orribile sto gigante. No, i sosi. Ah, ok. Ah, ok. No. No no. No no. Sì 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 Ok Chiudo così Perché tanto Avete capito che Sono un po' Un attimo in E sono molto contenta Della Dell'avvenuto Cioè Ok Non mi ero mai Cioè Armin Nella serie Per me ha fatto tipo Questo è il livello Zero Questo è il livello Meno dieci Era qua Armin Adesso e qui su che esce dalla videocamera cioè oddio no sono veramente troppo felice mi dispiace per non per Erwin mi dispiace tantissimo per Levi che ha dovuto fare una scelta del genere però sono veramente felice e poi non lo so quando mi calmerò cercherò di pensare ai risvolti della trama ma per adesso niente boh non lo so è stata pesante ma bellissima non so che altro dire quindi ci vediamo alla prossima ciao